Utility, una vasta gamma di applicazioni. La barra delle Utility si attiva trascinando il dito dal bordo superiore verso il centro, toccando il simbolo in alto a destra o cliccando il tasto destro del mouse in una zona libera dello schermo. La barra delle Utility consente di visualizzare ora, data, informazioni di sistema come il consumo istantaneo e l'anidride carbonica emessa e di accedere a tutte le applicazioni disponibili in EasyDom Next. Le applicazioni disponibili sono Blocco schermo È la funzione che attiva la schermata di blocco di Windows. Una volta impostata, sarà necessario inserire il pin per rientrare in EasyDom Next. Temi Consente di cambiare il colore dello sfondo di EasyDom Next e adattare il proprio EasyDom Glass all'ambiente di casa. Consumi Permette di tenere sotto controllo il consumo istantaneo del proprio impianto. Inserendo il costo al kilowattora nelle configurazioni, è possibile avere una previsione della spesa giornaliera, mensile e annuale e i suggerimenti sul corretto uso di ogni singola luce. Comandi vocali Consente di attivare e disattivare i comandi vocali di EasyDom Next. EasyDom Accendi luce ingresso Sto accendendo luce ingresso Pulisci schermo Permette di disabilitare le funzioni del touch per 30 secondi, consentendovi di pulire lo schermo senza attivare involontariamente altri comandi. Immagini Consente di avviare uno slideshow con le proprie immagini preferite per animare il proprio EasyDom Glass quando non in uso. Eventi Eventi Raccoglie l'elenco di tutte le notifiche registrate da EasyDom Next negli ultimi sette giorni. Configurazioni Permette di accedere alle impostazioni di EasyDom Next per attivare diverse funzionalità. Per attivare le impostazioni di EasyDom Next 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 per attivare le